Il Teteto è un'opera scritta da Platone, da filosofo ottenese Platone, allievo aristocratico di Socrate. Che cosa si intende per conoscenza, per episteme? Teteto, insieme a Parmenide e al sofista, appartiene al gruppo di dialoghi dialettici composti da Platone negli anni della mattarda maturità. I personaggi sono sempre Socrate e il giovane Teteto e l'anziano pitagorico Teodoro, i due celebri matematici alla conversazione. E' presente anche il filosofo Eulide, che a molti anni di distanza riferisce all'amico e condiscipolo Terpsione. Nello sviluppo del dialogo, Teteto propone tre definizioni di scienza. La prima, come sensazione, Aestesis, come opinione vera, Doxa Aletes, come opinione vera accompagnata dalla giustificazione razionale, Doxa Aletes Meta Logu. Ciascuna di queste definizioni viene sottoposta serata analisi critiche da parte di Socrate e tutte crollano di fronte alle sue obiezioni. Socrate costringe inizialmente Teteto a mettere che la sua tesi che identifica conoscenza e sensazione è analogo al punto di vista di Protagora, secondo cui sensazione equivale ad apparenze e le apparenze variano da diversi contesti, da contesto a contesto e nei diversi soggetti. L'altra tesi è che la conoscenza è sempre conoscenza di qualcosa, che è questa conoscenza deve essere infallibile, ma gli oggetti della sensazione sono mutevoli, come affermava Elacrito, essi non sono mai tali perché continuamente divergono altro da ciò che erano. La stessa cosa è bianca o ora e poi può diventare grigia, per me è calda, per un altro è freddo, eccetera. Questo però è in contrasto con il consenso universale, già che gli uomini sono convinti che esistano sapienza e ignoranza. Inoltre, se la conoscenza coincide con la sensazione, non vi è differenza tra vedere e conoscere. Più in generale, se tutti hanno ragione dal loro punto di vista soggettivo, come sosteneva appunto Protagora, si può arrivare a sostenere anche il contrario, ossia che nulla è vero e lo stesso Protagora dovrebbe dare ragione a chi affermasse che la sua tesi è falsa. Dopo questa tesi, Socrate procede ad una duplice dimostrazione. La prima, che la sensazione non è del tutto conoscenza. La seconda, anche entro, una sua sfera limitata, essa non è conoscenza. Ci sono conoscenze che non sono colte immediatamente dalla percezione, ma solo dalla riflessione. Il dialogo, quindi, è una conclusione aporetica che sembra negare la possibilità di ogni conoscenza scientifica universale e necessaria. Grazie. 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 Grazie.